Francesco Principe, polizia di Stato, si può? Dicono che l'ho ucciso io. Sono l'ultima persona ad averlo visto vivo e non ci sono testimoni. Ha una vita che non esercito, Francesco. Giovanni per me non era soltanto un amico. Io ridevo tutto. Allora come mai con questo suo fratello? Non aveva contatti da quasi due anni. Grazie, Gio, di aver accettato di difendermi. Ma si può sapere che c'è dentro il cassetto? Quando la chiave c'è lì tu, vai e lo apri. Ma così rompe il patto. Professore, sono io. Sono nei guai, ma non ho fatto niente. Nella villa della vittima sono state rintracciate solamente le sue impronte. Avete cercato le tracce dei pneumatici nel parcheggio? Tu vuoi tutto, Francesco. Solo che la vita non funziona così. Aver fatto una cosa le cambia le cose. Tu non sei bugiardo, tu sai di più. Tu inventi. Ti inventi le vite. Non ci credo che ti fa schifo la tua vita. Tu hai scelto di essere quello che sei. Un secondo, un asesino. Non c'è nulla, non c'è nulla. Tu hai t PH